E' la fashion blogger Chiara Ferragni, la più seguita del 2016 su Instagram in Italia. Dall'alto dei suoi 7 milioni e 400 mila follower, guida la classifica dei top account dell'anno, tra i quali figura anche il fidanzato rapper Fedez, all'ottavo posto. A parte Papa Francesco, in settima posizione, la classifica è tutta composta da star dello sport o dello spettacolo. Ma c'è anche il collega della Ferragni, il fashion blogger Mariano Divaio. Non stupisce la presenza nella top 10 di Gianluca Vacchi, l'imprenditore che con i suoi balletti scatenati ha movimentato l'estate e che in un anno ha racimolato più di 5 milioni di follower, balzando direttamente in seconda posizione. La classifica dunque è formata al primo posto da Chiara Ferragni, al secondo posto da Gianluca Vacchi, terzo posto Mariano Divaio, quarto posto Belen Rodriguez, quinto posto Mario Balotelli, sesto posto Valentino Rossi, settimo posto Papa Francesco, ottavo posto Fedez, al nono posto El Sharawi, al decimo posto Alessia Marcuzzi. Per restare aggiornato sul gossip iscriviti al nostro canale YouTube e seguici sulla nostra pagina Facebook. Alessia Marcuzzi.